È un'occasione importante per conoscere aziende, prodotti, per me è importantissimo conoscere le aziende e le persone, soprattutto. La cosa che mi ha colpito di più è la presenza in prima linea dei responsabili, dei proprietari delle aziende stesse, quindi vedo molto entusiasmo, molta voglia di portare avanti le loro innovazioni, e quindi la cosa che più mi ha colpito è l'entusiasmo che hanno portato qui dentro. Diciamo nuove opportunità anche per la distribuzione, incontrare molte persone che contestualmente ti fanno vedere, toccare con mano quelle che sono le loro innovazioni, i loro prodotti e quindi diventa un'opportunità assolutamente da non perdere. Ci stiamo misurando noi per prima con questi nuovi mercati, con questi nuovi prodotti, non dico che il futuro, perché il futuro nostro è sempre l'Italia, però comunque ci consentono di arricchire l'assortimento con dei prodotti che in alcuni momenti stagionali non potremmo avere.